Ciao a tutti, oggi parliamo di Cybex Lemo, la sedia dal design moderno utilizzabile dalla nascita fino ai 99 anni. Per i primi 6 mesi di vita del tuo piccolo potrai utilizzare Lemo Bouncer, una sdraietta che supporta fino ai 9 kg di peso, che può essere montata sia a terra grazie al suo supporto, sia sulla struttura della sedia Lemo. L'Emo Bouncer, dondola da sola, ha una seduta in mesh ultra traspirante ed è completata da uno splendido supporto neonato. Dai 6 mesi ai 3 anni circa del bambino potrai utilizzare Lemo Bouncer come un comodissimo seggiorno per la pappa, aggiungendo due comodi pezzi alla struttura, il babyset e il vassoio. Vediamo insieme come si montano. Infine ecco Cybex Lemo in modalità sedia. Sarà possibile regolare la profondità di seduta, l'altezza del poggiagambe e inoltre sarà possibile spostare la sedia a piacimento grazie a delle comode rodelline posteriori. Cybex Lemo, molto più di una sedia.